Bentornati, oggi parliamo di disastri all'opera, ovvero di una serie di eventi accaduti nel corso degli anni che hanno funestato l'esecuzione di alcune rappresentazioni d'opera lirica. Allora, ogni spettacolo dal vivo ha naturalmente in sé una dose di rischio. L'opera è perfetta da questo punto di vista, è veramente la rappresentazione dal vivo perfetta perché accadono disastri, perché sono talmente tante le cose che possono accadere, problemi di luce, problemi di entrate in scena, problemi musicali, stonature, problemi di sua scenografia, con gli animali, come vedremo, insomma, che può succedere veramente di tutto. Anche nella prosa può accadere di tutto, naturalmente. L'opera ha l'aggravante di avere la musica e quindi di avere anche, come dire, una necessità di andare insieme, per cui se durante uno spettacolo di prosa succede un problema, una battuta saltata o qualcosa, magari se l'altro attore, se la controparte è abbastanza flessibile, riesce magari a metterci una toppa. Sull'opera, se un cantante salta una frase o la sbaglia o non è insieme all'orchestra nel punto in cui dovrebbe essere, beh, abbiamo un grosso, grosso problema. Ma di tutte le cose che possono andare storte nell'opera, nulla è peggiore di quando un incidente viene provocato volontariamente e non è un incidente, appunto, quindi non è una casualità, non è dovuta all'imperizia, non è dovuta a una sfortunata serie di eventi, non è magari dovuta a un malfunzionamento di un'apparecchiatura, di un software, di un qualcosa, insomma, che provoca il malfunzionamento della complessa macchina teatrale, ma è dovuto banalmente a un qualcosa di voluto. Allora, siamo nel 1960, a New York, e si sta rappresentando la Tosca. Allora, per chi non conoscesse l'opera, l'opera Tosca finisce con lei che si butta dalle mura di Castel Sant'Angelo, si suicida, se non conoscete la storia non so raccontarvela, perché, insomma, non avrebbe senso, ma fidatevi di quello che vi dico, lei alla fine si suicida buttandosi dalle mura di Castel Sant'Angelo. Di per sé questa scena, in tutte, io l'ho diretto Tosca un milione di volte, in tutte le regie più o meno è sempre simile, cioè c'è un parapetto, e la cantante, dopo aver cantato Scarpia davanti a Dio, si butta, e sotto, ovviamente, il pubblico non lo vede, ma dietro le scene c'è mediamente un materasso che attutisce il colpo della povera cantante. Nel 1960, a New York, successe che la cantante aveva avuto una serie di screzie abbastanza importanti con i macchinisti, e mai, ragazzi, mai, mai, mai mettersi contro delle persone che potrebbero poi metterti in grandi difficoltà, e questo è il caso tipico, perché dopo una serie di, insomma, diciamo, di questioni, una serie di battibecchi che c'erano stati con i macchinisti, i macchinisti decisero di vendicarsi, e le misero, al posto del classico materasso che si usa, un materassino elastico, per cui, quando lei si buttò, tra l'altro, insomma, era anche, non faccio il nome, ma era, insomma, anche abbastanza corpulenta, invece che, qui vedete il muro, invece che andare giù e finire sul materasso e finire lì, lì finisce l'opera, stava a cominciare a rimbalzare, praticamente, come un jumping jack flash, grazie al tappetino elastico, per cui, invece che, pensate, insomma, all'inarità di questo momento incredibilmente drammatico, il finale dell'opera, dove, insomma, tutto finisce, e finisce nella maniera più drammatica possibile, e poi, in Tosca, muoiono praticamente tutti, e vedere la cantante che rimbalza, che rimbalza su un materassino elastico. Paura. Tosca è un'opera che si presta particolarmente ai disastri teatrali. Siamo nel 1961, alla San Francisco Opera, si sta rappresentando, appunto, Tosca. Breve riassunto per i più disattenti o quelli che conoscono meno l'opera della lirica. Finale di Tosca. Tosca ha ucciso il cattivo e aveva concordato la falsa fucilazione di Mario Cavaradossi, che è il suo amante. Ovviamente, invece, Scarpia, cioè il cattivo, aveva fatto in modo che la fucilazione fosse tutt'altro che finta. Per cui, nel finale di Tosca, c'è questa scena per cui il plutone di esecuzione arriva, fucila Cavaradossi, Tosca è convinta che la fucilazione sia una fucilazione finta, per cui lo vede cadere e dice, ah, vante, bravo, questo è un artista. Dopodiché, quando si rende conto che Cavaradossi invece è morto davvero, si suicida buttandosi dall'imura di Castel Sant'Angelo. Tutto perfetto. Se non fosse che alla San Francisco Opera nel 1961, in una rappresentazione estiva, come spesso capita, vengono prese delle comparse, generalmente da parte, vengono prese tra studenti, universitari, o ragazzini che fanno il doppio lavoro e che arrotondano un po' così il mensile dell'estate. Per cui vengono prese questo gruppo di ragazzi che dovranno fare la fucilazione, studenti universitari che dovranno fucilare Cavaradossi. Ma non viene spiegato loro nulla, loro ovviamente l'opera ne sanno meno che di astrofisica e quindi non sanno esattamente cosa fare. Per tutta una serie di ragioni che ora non so raccontarvi, non si riesce ad arrivare neanche alla prova generale che salta. Per cui la sera della recita questi ragazzotti si trovano e non sanno esattamente bene cosa devono fare. Per cui gli dicono, entrate in scena, sparate e la vostra parte è finita. In effetti è una parte che dura pochissimi minuti. Loro, il problema è che entrano in scena ma non sanno a chi sparare. Per cui si stanno davanti un uomo che è Cavaradossi che deve essere fucilato e una donna un po' lontano, nascosta dietro un muretto che sembra che stia parlottando con Cavaradossi. Siccome il regista ha detto, quando vedete il sergente che vi dà il colpo, voi sparate, loro però non sanno a chi sparare. Loro sapendo a chi sparare fanno una deduzione logica e dicono l'opera si chiama Tosca, le opere sono tutte drammatiche, muovono sempre tutti e dobbiamo ammazzare Tosca evidentemente. E quindi succede questa scena veramente drammatica e per cui loro sparano a Tosca che ovviamente rimane assolutamente vive. Nel frattempo cade Cavaradossi dall'altra parte del palcoscenico. Loro allora si rendono conto di aver sparato la persona sbagliata e risparano su Cavaradossi che nel frattempo è già morto perché era già caduto per terra. Alla fine non sanno come uscire di scena perché gli era stato detto, classica cosa che si dice sempre alle comparse, uscite con i protagonisti. Ora i protagonisti sono due, uno è Cavaradossi che è morto, quindi lì per terra steso, e l'altro è Tosca che si butta giù dal Castel Sant'Angelo. E quindi cosa fanno questo gruppo di ragazzotti? Dicono, ci hanno detto di uscire con i protagonisti, usciamo con i protagonisti e si buttano tutti giù dal Castel Sant'Angelo. Altro disastro, New York 1960, l'opera di Don Giovanni, l'entrata in scena di Don Elvira, che deve cantare la sua aria A chi mi dice mai, viene messa su una portantina, come si usava ai tempi la soprano un po' in carne, e le due povere comparse che devono trasportarla fanno fatica a trasportarla, per cui la portano fino a su, fino al punto della scena a cui poi dovranno scendere per arrivare sul palco, e quello davanti cede, quello di dietro si trova tutto il peso, non riesce a sollevare, per cui praticamente ribaltano la portantina e la cantante si trova praticamente a testa in giù. Il problema qual è? Che caratteristiche delle portantine, le facevano apposta così, i portatori non vedevano cosa succedeva all'interno della portantina, lo si faceva per discrezione, per privacy, per quello che volete. Per cui, una volta che la cantante si è ribaltata all'interno della portantina, loro non se ne rendono conto, e quindi entrano in scena con la cantante a testa in giù, e lei, veramente una gran professionista, canta tutta l'aria a testa in giù. Opera di Parigi, 1954, opera Rigoletto, nel momento forse più drammatico di tutta l'opera, nel momento della scena famosa di cortigiani di razza dannata, quando praticamente Rigoletto va a pretendere che i cortigiani gli restituiscano la figlia rapita, durante l'aria cosa succede? Che la gobba comincia a scendere. E quindi immaginatevi l'assurdità e ovviamente liarità tra il pubblico, vedendo il momento più drammatico forse dell'opera, questo padre disperato che canta bella figlia, con la gobba che pian piano gli scende sulla schiena. Sempre Don Giovanni, qualche anno prima, 1949, a Edimburgo. Il direttore è Raffael Kubelik, quindi un grosso direttore dell'epoca. Uno dei problemi principali che c'è in quest'opera è sempre trovare l'equilibrio fra la voce del commendatore, che essendo una statua, molte volte canta con una maschera, o se no con una maschera, insomma, canta in posizioni abbastanza scomode, e i tromboni che lo accompagnano. Dopo aver provato tante versioni, siccome si voleva dare appunto a questa scena un qualcosa di lugubre, perché il commendatore sta cantando dall'oltretomba, si decise di far cantare il cantante da un bagno che era esattamente vicino all'ingresso del palcoscenico. Perché questa cosa, comunque il cantante era ottenuto una voce molto potente, i tromboni erano messi comunque anche loro in fondo al bagno, quindi questa cosa dava questo effetto spettrale, questa cosa che arrivava da lontano, insomma, evidentemente nelle prove ha funzionato molto bene, tant'è vero che Kubelik decise di adottare questo escamotage acustico, diciamo così. Se non fosse che durante la prima, oltretutto ripresa a Via Radio della BBC, essendo un bagno, nel momento più drammatico, in cui si sente di rider finirai prima dell'aurora, l'inizio della maledizione del commendatore, si sente un sciacquone tirare, e quindi questo sciacquone risuona in tutta Gran Bretagna, grazie alla diffusione radio della BBC. Ancora Tosca, 1956, siamo a San Diego negli Stati Uniti, e cosa succede? Tosca, alla fine del secondo atto, ha ucciso Scarpia, e come da copione, deve mettergli intorno delle candele, come se si metterebbe in fronte a una barra, e poi soffiare sulle candele, e spegnerle, e andare via. Il secondo atto finisce così, con Scarpia morto, e lei che va via. Il problema è che le candele erano elettriche, sia per questioni organizzative, sia per questioni di antincendi, insomma, sapete tutta la questione di quanto è delicato avere delle fiamme libere su un palcoscenico, quindi le candele, quindi non avevano la fiamma, ma erano candele elettriche. Se non fosse che le candele erano quattro, ed evidentemente la cantante o sbaglia lei l'ordine, o sbaglia il macchinista a spegnere l'interruttore giusto, ma stai dicendo che lei soffre su una candela e se ne spegne un'altra. Lei soffre su un'altra candela e se ne spegne un'altra. Anche in questo qua, insomma, in uno dei momenti più drammatici dell'opera, pensate quanto può essere ridicola una scena del genere. Un capitolo a parte lo meritano gli animali in scena. Allora, molte volte si sono visti gli animali veri, vivi, in scena, e quasi altrettante volte si sono visti dei disastri. Il punto qual è? Che avere un animale in scena è una cosa molto costosa, per cui, una volta che si è deciso di fare questo passo, si cerca di sfruttarli il più possibile, perché, insomma, spendere comunque tanti soldi per, diciamo, affittare, metti un cavallo o qualunque altro animale, poi, vedere una volta che passa e basta, insomma, è uno spreco di soldi. Già che c'è, già che l'abbiamo affittato, sfruttiamolo. Arena di Verona, 1970, direttore Gianandrea Gavazzini, l'opera è Carmen, e ci sono ben 38 cavalli in scena, diconsi 38. Funziona tutto bene, tutto secondo copione, se non fosse che il 38esimo cavallo, a un certo punto, cade dal palcoscenico e va a finire direttamente nei timpani, vi lascio immaginare, per fortuna, innanzitutto, non ammazzando nessuno, in primis il timpanista, e Gavazzini, insomma, se la cavò con un, come dire, un insulto che oggi sarebbe decisamente considerato politicamente scorretto nei confronti del regista che aveva deciso di utilizzare tutta questa massa equina sulla scena. Ma siccome evidentemente la serata ormai era incanalata verso quella direzione, nel corso della stessa serata, mentre durante l'area del tenore entra un gatto, un gatto randaggio, che comincia a strusciarsi e a amoreggiare sulla gamba del tenore, insomma, che quindi deve cantare, deve cantare la sua aria con questo gatto, come dire, che gli si struscia addosso. Ma a quei cavalli è successo anche di peggio, nel 1913, alla Scala, c'era una scena in cui, un'opera di Zandonai, e questa scena in cui praticamente il cavallo correva su una piattaforma girevole. Qual è l'effetto? È che tu vedi il cavallo che corre, che si muove, ma in realtà il cavallo resta fermo, insomma, ecco, quindi è esattamente come vedete il cricetto che corre sulla ruota. Ecco, immaginate lo stesso principio di un cavallo che corre su una ruota girevole, una ruota ovviamente non come quella del cricetto, ma una ruota piatta, evidentemente. Funziona tutto perfettamente, anche le prove, se non che a un certo punto il meccanismo si blocca mentre il cavallo sta correndo con l'effetto fisico di scaraventare cavallo e cavaliere come un siluro dietro le scene. Un'altra volta durante una recita di Carmen entra in scena un San Bernardo che era previsto che ci fosse, era previsto nella regia, se non fosse che questo San Bernardo rimane incredibilmente all'inizio, insomma, non crea problemi in particolare, girovaga un po', gira per il palco, insomma, fin fine non dà problemi particolari, se non che a un certo punto nota che c'è questo signore che sta dirigendo con questo strano legnetto in mano e quindi si ferma quasi ipnotizzato a guardare il direttore orchestra e poi come tutti i cani si aspetta che quello gli stia per lanciare il legnetto da portare, qui aspetta un po', aspetta un po', il direttore ovviamente la bacchetta aveva le sue intenzioni di lanciarla, per cui il cane comincia a latrare, comincia ad abbagliare e comincia a ululare arrabbiato col direttore perché non gli lanciava il legnetto da riportare fondamentalmente. Ma in tempi molto più recenti, abbiamo visto pochi anni fa a Vienna nel 2016 sempre Tosca, chissà perché è un'opera che è particolarmente disgraziata nelle sue rappresentazioni, all'opera di Vienna, Jonas Kaufmann, quindi uno dei più importanti tenori che sono oggi, che alla fine di lo scena alle stelle, c'è la scena in cui Tosca entra con il salvacondotto in mano, per cui lui è da solo, generalmente prende gli applausi, poi l'orchestra attacca, lei entra in scena e loro, insomma, parlano e fanno quello che devono fare. Senonché lui finisce l'area e lo scena alle stelle, applausi, ovazioni, come sempre, Kaufmann oltretutto è bravissimo, attacca l'orchestra, ci sono qualche seconda che è normale, insomma, circa 20 secondi di tradizione strumentale prima che per dare il tempo alla cantante di arrivare sul palco, peccato che la cantante non arrivi, per cui a un certo punto Kaufmann si trova lì con nessuno davanti, mentre dovrebbe cantare a Franchigia, a Florea Tosca, il cavaliere che la accompagna, sei libero, ecco, e quindi a un certo punto l'orchestra è lì su un tremolo coronato senza poter fare niente, e Kaufmann non sa cosa fare e allora guarda il pubblico e dice ah, non abbiamo la soprano, e quindi insomma, la butta un po' surrida, la butta con una grande, insomma, tutto finisce in una risata generale, naturalmente anche il direttore è costretto a fermare l'orchestra e aspettare che da dietro gli facciano cenno che la cantante è pronta per entrare in scena, a quel punto riattacca e vabbè, insomma, e l'opera va avanti. Questo per dire, insomma, che queste sono cose che succedono in tutti i teatri, cioè, imprevisti, non pensate che, non pensate di relegare certi disastri teatrali solo a realtà marginali, magari dove si è provato poco o dilettantesco, qualcosa del genere, assolutamente, se vi ricordate un decine di anni fa, nel secondo atto di Traviata, Aperture della Scala con Diana Damrau, c'è una scena in cui praticamente lei dovrebbe entrare in scena nel secondo atto e lei non entra, perché sì, c'è che è rimasta chiusa nell'ascensore, insomma, entra tipo 30 secondi dopo, non si saprà mai quale è stata la ragione vera, però, come vedete, queste cose succedono e anche nelle migliori famiglie. Bene, vi ho raccontato alcuni, come dire, episodi abbastanza famosi, poi non tralasciamo la quantità di aneddoti che ci sono su scherzi e varie, e varie vicissitudini che sono capitate durante le rappresentazioni d'Opera Lerica. Io stesso, adesso ho parlato di disastri altrui, ma forse un giorno, se vi interessa, potrei fare un appuntato sui miei disatti all'opera. Insomma, io dopo 200 e passa recite di Opera Lerica e dopo 35 titoli debuttati, vi assicuro che anche a me è successo di tutto, scenografie che cadevano, cantanti che non entravano, insomma, tagli sbagliati, luci che andavano via e si suonava al buio, insomma, me ne successe veramente di ogni, insomma, in così tante recite di Opera Lerica. Per cui, sono cose che succedono. Detto questo, quando succede veramente perdi degli anni di vita, ve lo assicuro, insomma, che già l'opera è una forma estremamente complessa nel quale il direttore in particolare, insomma, tutti, ovviamente i cantanti, i coristi, ovviamente i musicisti, ma devono prestare attenzione a tantissime cose. Il direttore orchestra è naturalmente quello che deve prestare attenzione a tutto, insomma, quindi, quando succede una cosa del genere, vi assicuro che la vita ti passa davanti in un lampo. Bene, spero che la puntata vi sia piaciuta, se avete degli aneddoti di raccontare scrivetelo nei commenti o mandatemeli in messaggio privato o magari un domani potremmo fare una seconda parte di Risasti all'Opera. Alla prossima!